SINAPSI NEWS 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 Su San Giorgio a Cremano posso dire che si danno parecchie possibilità ai giovani per lavoro, mentre cose negative che non si organizza nulla per migliorare questa città. Che bella la città, tira un poco, c'è un poco di traffico, la viabilità non è perfetta perché c'è una sola strada a salire e una a scendere, parecchie strade sono chiuse e c'è un po' di disordine. Di negativo cosa vogliamo dire? È una città che vive un nuovo sindaco che per ora sta dimostrando di mantenere le promesse ma nel senso pratico si vedono tanti miglioramenti sul territorio, uno di questi che può saltare agli occhi nel vero senso della parola è il fatto che sia stato fatto un murales in memoria del nostro Massimo Troisi. Ancora più c'è da dire di positivo che magari, questo è sulla bocca di tutti ormai, lo sanno tutti, è stata ormai dichiarata la cosa, è che nell'imminenza saranno effettuati dei lavori di ristrutturazione di piazza Massimo Troisi, è quella che già porta il nome del nostro attore, è che si pensa, si spera siano dei lavori che daranno ancora più valore alla nostra città. San Giorgio a Cremano è la città anche dei giovani e con questi bellissimi ragazzi ci troviamo adesso in piazza Massimo Troisi ai quali chiediamo una domanda molto facile, vuoi dire una cosa positiva su San Giorgio a Cremano? È una bella città, si sta evolvendo dal punto di vista soprattutto dei giovani che stanno comunque vedendo anche al di là di San Giorgio per poi cercare comunque anche nuove opportunità al di fuori di questa città, anche se poi comunque rimangono legati alla famiglia che sta qui, rimane qui e di conseguenza poi tendono a ritornare sempre dal posto in cui sono nati e questa è una buona cosa, sì. Quindi non abbiamo solo cervello in fuga, abbiamo anche ragazzi che restano, ragazzi positivi, ragazzi che tornano, dicci una cosa carina, dai. Allora vi dico solo che nel mentre si va all'estero poi non si rimane, è un'esperienza che ha avuto anche un mio amico, è voluto ritornare perché comunque qui alla fine si sta bene, si sta con gli amici e diciamo si fa fatica a andare via, sì, anche da parte mia. Va benissimo. Allora, cosa volevi dirci di bello su San Giorgio? No, alla fine sì è vero, San Giorgio diciamo ha i suoi lati negativi ma anche i suoi lati positivi ed è bello quando sono in giro magari non a San Giorgio e sentirmi dire ah tu magari sei della città di Massimo Troisi, comunque è un onore, è bello avere qualcosa di positivo a San Giorgio, quindi per me la positività magari è il ricordo di Massimo Troisi. Con la scuola abbiamo fatto molte manifestazioni anche col fratello di Massimo, ci ha accorto nella sua casa, abbiamo fatto per alcuni giorni le hostess e comunque sì persone da tutto, anche da su, da Milano sono venute qui per guardare la casa e diciamo le cose positive ci sono, anche quelle negative ovviamente. Come si vive a San Giorgio? Non bene, secondo me non bene, ma è diventata una città sporca, trascurata, la micro delinquenza aumenta, secondo me va peggio. Traffico e servizi? Non bene. Quindi una bocciatura su tutti i fronti? Per me sì, anche se sono di San Giorgio, sono nata a San Giorgio ma comunque vedo che sta peggiorando. Ancora in giro per San Giorgio e Cremano, stiamo incontrando cittadini, commercianti, un pochino tutte le persone che ci vivono in questa bellissima cittadina, una cosa positiva qui a San Giorgio e Cremano? Allora, di cose positive ultimamente non se ne vedono più di tanto, soprattutto per noi commercianti, perché è un settore che più anni passano più va a peggiorare. Dicci due cose su San Giorgio e Cremano, una positiva e se c'è anche una negativa? Buongiorno, io sono Loredana Guerriero, residente San Giorgio e Cremano, per me San Giorgio e Cremano è un comune che ha tutto, alla portata di tutto e di tutti, puoi trovare qualsiasi cosa e questo è sicuramente un lato positivo. Lato negativo? In questo momento non mi sovviene, devo essere sincera, non lo so, forse il traffico non ve lo so dire, cioè devo essere sincera. No, no, evviva la sincerità di Loredana, grazie Loredana, buona giornata e buon lavoro. Una cosa positiva e una cosa negativa che lei ha registrato qui a San Giorgio e Cremano? Allora, come cosa positiva sicuramente posso dire che c'è una grande attenzione da parte di tutta San Giorgio sugli eventi che sono creati dal sindaco, con Villa Vannucchi, Villa Bruno, voglio dire che sono molto organizzati. Per quanto riguarda qualcosa di negativo posso dire sicuramente che ci sono i parcheggi che sono praticamente introvabili e quando si trovano si devono pagare. Per noi, diciamo, commercianti è anche difficile, stando qui dalla mattina alla sera comunque dover pagare 5-6 euro al giorno per tenere la macchina. Quindi sarebbe da suggerire al sindaco una fessera per i commercianti che abbia una riduzione sugli stalli? Assolutamente, o anche trovare un modo, creare un po' più di parcheggio, non lo so, creare uno spazio magari, non dico solo per i commercianti, ma anche proprio per le persone. Perfetto, allora abbiamo fatto un giro straordinario in questa meravigliosa città vesuviana dove abbiamo incontrato i cittadini di San Giorgio e Cremano ai quali abbiamo chiesto quali siano le criticità e soprattutto quali sono le positività che hanno riscontrato dall'insediamento di questa nuova amministrazione. Oggi a conclusione di questo tour, quasi de force possiamo dire, siamo a casa del sindaco, siamo nel comune di San Giorgio e Cremano. La casa dei cittadini. La casa dei cittadini, la casa aperta ai cittadini perché questo sindaco riceve quotidianamente decine e decine di cittadini. Benissimo, sindaco, le domande sono state queste due che ho appena detto. Criticità e positività. Tanto fatto, tanto da fare. Beh, ovviamente c'è ancora tanto da fare perché un sindaco nella sua quotidianità deve fare, se no perde la sua funzione. È una casa aperta il comune, ma lo è anche tramite internet, tramite Facebook, che ormai è forse uno degli strumenti di comunicazione di massa più utilizzato, tramite le mail. Quindi la cosa principale che abbiamo voluto fare è il rapporto col cittadino. Il rapporto col cittadino significa ascoltare quelle che sono le proprie richieste, a volte anche le proteste ovviamente e a volte poche, ma diciamo almeno ci sono, le proposte. Ovviamente significa non dare per forza ragione all'interlocutore perché molte volte ci sono delle richieste che possono essere riscontrate per il bene dei cittadini, altre no. È ovvio che questo è qualcosa che va anche nella chiarezza nei confronti dei cittadini. Le criticità sono quelle di una città di 50.000 abitanti con grandi tagli economici di bilancio. Negli ultimi sei anni noi abbiamo perso più del 50% dei trasferimenti dello Stato e stiamo parlando di quasi 10 milioni di euro. Per un bilancio che oggi è di 35 milioni di euro ci dà l'idea dei tagli che il Comune ha avuto, dei trasferimenti e questo significa ovviamente una diminuzione di quella che è la possibilità di spesa. L'abbiamo fatto cercando ovviamente di non colpire quelle che sono le fasce deboli, per le quali continuiamo a fare progetti di integrazione per i disabili. Ne abbiamo fatti partire due pochi giorni fa. Di sostegno laddove possibile alle famiglie, alla famiglia in difficoltà e dall'altro lato ovviamente quelli che sono stati i tagli maggiori che le amministrazioni hanno dovuto fare. Al di là della macchina amministrativa, che però questo ovviamente porta anche un rallentamento delle risposte, è ovviamente quello che è la manutenzione del territorio sul quale oggi stiamo cercando, anche con avanzi di amministrazione, di recuperare. Perché il problema forse più grande che noi abbiamo è stato proprio questo. La contrizione della possibilità di spesa ha creato una minor manutenzione, forse la piccola manutenzione che noi oggi stiamo cercando. Perché ovviamente è una città che dà una percezione di bellezza, ma bellezza in senso di ordine maggiore, dà anche un senso di sicurezza maggiore. Quindi le criticità del nostro territorio sono quelle delle città piccole, ma con tanti abitanti, dove però purtroppo una parte di abitanti hanno anche una inciviltà. Ma quel piccolo gruppo di cittadini creano i problemi a una maggioranza che ovviamente vorrebbe dar al Comune delle risposte dirette. Uno dei problemi maggiori che noi abbiamo nell'ultimo periodo sono le deiezioni canine, che già dirla così sembrerebbe una banalità, ma è un problema molto sentito dai cittadini, legato ovviamente a chi ha il problema nel momento in cui in mezzo alla strada non può camminare. Questo è dovuto a dell'inciviltà che ovviamente noi stiamo cercando anche tramite orari diversi della Polizia Municipale di reprimere, di eliminare sul nostro territorio. Ma è un problema sentito, quindi quella fascia di insicurezza che nasce dall'affrontare una strada, un luogo meno bello, bello nel senso di urbanisticamente visivo, e che ovviamente denota un po' di insicurezza. Mi avete parlato anche delle questioni delle strisce blu. È un problema che negli ultimi 17 anni esiste a San Giorgio, perché sono 17 anni che esistono le strisce blu e non c'è mai stato l'abbonamento per i cittadini. In futuro dovremmo trovare una soluzione, ma oggi ovviamente, avendo espletato penso tre anni fa, se non erro, poi ci sono tutte le problematiche della burocrazia che sono belle forti, l'ultima gara ovviamente dovremmo aspettare il tempo, capendo qual è la possibilità di dare delle risposte ai cittadini in tal senso, perché ovviamente poi la striscia blu in sé per sé è un modo di far circolare il traffico, circolare la sosta per il commercio e anche per la viabilità in sé per sé. È ovvio che però cercare di dare una risposta, cosa non prevista come progetto dell'amministrazione, perché all'epoca delle elezioni anche noi non abbiamo deciso di fare ciò, ma potrebbe essere nelle possibilità in futuro, ovviamente capendo cosa significa sul livello economico e organizzativo delle strisce blu. Questo serve a dare un'idea del problema immediato che il cittadino ha il giorno quando scende in strada, è ovvio che però un'amministrazione deve volare alto e deve cercare di costruire qualcosa di diverso. Stiamo cercando di costruirlo sul livello culturale, ripartirà il premio Troisi, ma il premio Troisi non è una kermesse di soggetti più o meno noti che vengono a San Giorgio, ma è un'idea di città, è un'idea di possibilità di dare ai giovani luoghi di formazione. Partiranno, se tutto va bene, verso aprile i corsi di formazione aperti nelle scuole ai giovani del territorio, anche non del territorio perché non mettiamo steccati, però è l'idea di dire che questa è una città che ha un grande potenziale culturale, che ha visto tante associazioni produrre cultura, tanti soggetti diventare anche a livello nazionale e internazionale, soggetti non solo artisti, ma anche nel mondo dello sport, nel mondo della cultura, della letteratura, da San Giorgio a Cremano sono partiti molti e quindi questo è un motore culturale che ovviamente migliora la nostra società, dà la possibilità a tanti soggetti di avere degli esempi positivi. Siamo andati nelle scuole con ragazzi che a vent'anni avevano fatti i mondiali a Rio de Janeiro, Alessandro che è un grande ragazzo che a vent'anni ha già vinto una medaglia di bronzo. Parliamo di percorsi culturali da fare col territorio e con le scuole perché se noi facciamo questo miglioriamo la nostra città e in parte eliminiamo o assottigliamo quella parte di incivili che vedono nella cosa pubblica una cosa di nessuno mentre invece la cosa pubblica è una cosa di tutti che va tutelata e se noi riusciamo a fare questo grande lavoro culturale probabilmente il Comune non dovrà manco più spendere i soldi per la manutenzione del territorio, lo dovrà fare in minima parte perché tutti quanti noi insieme tuteleremo quello che è il nostro territorio. Allora, perfetto, diciamo che il sindaco ha quasi risposto per intera a tutte le istanze dei cittadini trasferendo chiaramente il suo impegno, la sua volontà a volere porre rimedio, ovvero è possibile, alle criticità ma una domanda corre l'obbligo di farla. L'alveo, la puzza, quella zona veramente, noi ci siamo stati con le telecamere che non trasmettono gli odori ma le immagini erano quelle. Cosa si può fare per quell'alveo? Parliamo di un alveo che non è nel territorio di San Giorgio a Cremano, o meglio, l'alveo parte dal territorio di San Giorgio a Cremano arriva nel territorio di Napoli, Barra suppongo quella zona, e nella parte di Barra il Comune di Napoli non l'ha mai coperto mentre invece in passato il Comune di San Giorgio è arrivato a coprire quasi tutti gli alvei, o meglio, gli alvei scoperti sono coperti ma probabilmente in alcuni punti ci sono delle criticità dovute anche ai Comuni limitrofi del defluvio delle acque ma nel Comune di Napoli, ovviamente il Comune di San Giorgio non può intervenire, però dato che è un problema che è anche sentito in questo senso più sul livello olfattivo che di altro genere, ci muoveremo, già ci siamo mossi con la Regione però ci muoveremo per far sì che anche il Comune di Napoli riesca a coprire quella parte di alveo perché ovviamente quell'alveo è coperto fino al territorio di San Giorgio, per pochi metri nel territorio di Napoli e poi va scoperto nel periodo estivo, quindi quando l'alveo è quasi secco, salgono quelli che sono gli odori o meglio gli odori, i malodori e quindi in qualche modo ovviamente in ultimo periodo è sempre più sentito il tema questo ovviamente non si può fare come Comune di San Giorgio ma si può fare spingendo il Comune di Napoli e la Regione a intervenire presso quella zona per far sì che quel luogo che poi è un po' la porta d'ingresso nella nostra città, un luogo voglio dire di ingresso fisico ma anche voglio dire il biglietto da visita non può avere diciamo quegli odori che ultimamente nell'estate, specialmente ad agosto si può sentire quindi in qualche modo è un intervento che noi potremmo fare non direttamente perché purtroppo non è nostra competenza ma ovviamente in comunione col Comune di Napoli. Va benissimo, quindi la città di Massimo Troisi non può avere odori diversi se non quelli della cultura siamo davanti alla casa del grandissimo Massimo Troisi, sarebbe stato bellissimo poter chiedere a lui oggi come si vive a San Giorgio a Cremano ma soprattutto a lui cosa avrebbe detto di questa San Giorgio a Cremano una cosa positiva sicuramente ce l'avrebbe spiegata, quella negativa non so, forse lui non l'avrebbe trovata perché con la sua straordinaria filosofia e il suo meraviglioso modo di proporci e di porre la sua napoletanità avrebbe detto di raccampare Grazie! 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 Grazie!